L'etica si colloca nel senso che rispettare l'etica deve essere un impegno di tutte le imprese e gli imprenditori, non deve essere soltanto un fatto formale ma un fatto sostanziale, quindi rispettare le regole anche se spesso queste regole sono eccessive, numerose e troppe e creano un freno all'attività imprenditoriale, quindi ci deve essere l'obbligo e il dovere di rispettare le regole ma anche il dovere della pubblica amministrazione di fare in modo che queste regole siano più snelle, più praticabili in concreto. Un lavoro in entrambi i sensi? Certo, quindi si ha detto in un intervento fatto in Confindustria che per correre veloci occorre stare da soli, ma per correre e andare lontano occorre stare in compagnia, quindi una volta la corruzione è qualcosa che non si realizza a breve, è un programma che richiede un tempo, interventi efficaci e quindi occorre che tutti agiscano in collaborazione e sinergia tra ruolo pubblico e privato. Quindi per concludere, il confine tra lecito e illecito è sottile oppure no? No, il confine non è sottile, il confine esiste ed è preciso, il problema è che non è ben marcato, per cui è facile sconfinare da lecito all'illecito, occorre marcarlo meglio con regole sia preventive che repressive. Grazie Grazie Grazie